Ciao a tutti, facciamo un video su un argomento un po' diverso rispetto ai precedenti, nel senso che io coltivo al 90% se non di più cactacee, cactus. In questo caso come state vedendo abbiamo invece delle piante succulente, che non sono cactacee tranne queste, poi spiegherò il perché. Magari intanto se volete capire la differenza tra cactacee e piante succulente, e sono tutte queste dette piante grasse diciamo in gergo volgare, vi invito a guardare l'articolo che ho scritto e che metterò di cui metterò un link qui sotto sul sito il fiorito alle spine, dove trovate appunto la spiegazione perché si dice piante si distingue tra piante succulente e cactacee. Dicevo appunto oggi farò un rinvaso di piante succulente di vari generi e varie specie, diciamo per una cosa per realizzare diciamo una composizione, se così vogliamo chiamarla, da tenere magari non so sul balcone di casa, in casa se qualcuno vuole, anche se non è mai il massimo della vita tenere questo genere di piante in casa, se non l'inverno al massimo. Io lo faccio perché appunto ho avuto queste piante e faccio una piccola composizione, non è una cosa che faccio abitualmente perché io coltivo in maniera molto spartana, anzi diciamo è un po' l'opposto rispetto a quello delle composizioni, il mio tipo di coltivazione, però ogni tanto qualcosa anche a livello estetico, per carità ho queste piante, mi piacerà, mi piace averle sul balcone e ho deciso di metterle quindi in una sola ciotola, a fare una piccola composizione cioè non tenerle distinte ma messe insieme ed è quello che faccio adesso. Con una premessa allora per chi fosse interessato a questo tipo di diciamo di coltivazione, quindi fare delle ciotole magari diciamo belle da un punto di vista estetico e magari da tenere appunto il petto in caso sul balcone. Attenzione alle piante che scegliete perché anche restando nel mondo delle piante grasse, chiamiamole pure così volgarmente, non possiamo mischiare tutti i generi tra di loro perché hanno delle esigenze che possono essere molto diverse da una pianta all'altra. Ad esempio per questo ho tenuto qui, questa è una cactacea, questo è un Echinocactus texensis, questo è un cactus, tutte le altre che vedete sono piante succulenti di vari geni, Crassula, Echeveria, Adromiscus, qui c'è una Titanopsis, quindi sono di una famiglia, sono famiglie completamente diverse tra di loro. Ora i cactus hanno determinate esigenze, le piante succulente tendenzialmente hanno delle esigenze diciamo vagamente simili ma non sono proprio identiche quindi mischiare cactus e succulenti in una stessa ciotola, se uno può piacere magari anche da un punto di vista estetico potrebbe anche essere bello per carità, però se vogliamo coltivare bene le piante io lo sconsiglio perché hanno delle esigenze diverse. La prima è quella dell'esigenza relativa all'irrigazione cioè le piante succulente a foglia, ad esempio questa, questa soprattutto, quelle con le foglie più carnose ancora ancora, ma queste ad esempio vogliono molta più acqua come è facile intuire rispetto ad una cactacea. La cactacea può restare anche dei mesi senza acqua, queste se le lasciamo anche solo un mese senza acqua cominciano ad appassire, ad afflosciarsi fino a morire se poi non le la fiamo, mentre un cactus potrebbe essere tenuto al freddo può stare tranquillamente senza un goccio d'acqua anche per mesi e mesi interi, quindi la prima di grossa distinzione è quella. Un'altra distinzione è anche il tipo di terriccio, ad esempio sui cactus si consiglia ed è quello che io faccio abitualmente un terriccio molto 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 più drenante, più povero tra virgolette rispetto a quello che si usa per le succulenti, proprio per lo stesso motivo perché le succulenti hanno bisogno di un po' più di umidità, quindi il terriccio deve restare umido anche magari per alcuni giorni per dare tempo alle piante di assorbire bene l'acqua, mentre per i cactus deve asciugare rapidamente nei giorni di pochi giorni perché loro bevono velocemente e poi non amano assolutamente i ristagni, nessuna pianta ama i ristagni diciamo così tendenzialmente, però ecco le succulenti lo sopportano il terriccio umido molto meglio dei cactus e anzi ne hanno un po' bisogno, quindi se noi le mettessimo insieme dovremmo usare un terriccio che insomma dovremmo usare lo stesso terriccio per tutte e questo non è il massimo, infine un'altra ragione potrebbe essere quella delle temperature, se i cactus ad esempio si è tenuti asciutti diciamo la stragrande maggioranza dei cactus resiste benissimo d'inverno a temperature anche sotto lo zero, anche abbondantemente sotto lo zero, le succulente, anche lì alcune specie sì alcune specie no, bisogna conoscere, alcune resistono molto bene al freddo, molte altre non lo tollerano, quindi se vanno magari anche solo a zero gradi potrebbero morire, mentre un cactus se è tenuto asciutto a zero gradi non ha nessun problema, quasi tutti i cactus ad esempio i melocactus non si possono tenere al freddo, però senza adesso dilungarci trovo perché sennò diventerebbe infinito, però ripeto tutte queste informazioni, temperature, terriccio, acqua, una fettura, trovate tutto sul sito, vi metto qualche link qua sotto, poi vabbè navigate nel sito, fate la ricerca, il sito di lavoramento, ma ci sono centinaia e centinaia di articoli, foto, schede, c'è di tutto insomma, quindi trovate qualsiasi cosa. Allora partiamo un po' con corri in vaso, io ho preparato questa ciotola, sembra quasi di cotto ma è una ciotola in plastica riciclata, in grigia, ho già messo uno strato di argilla espansa con un coccio di cotto sul fondo per coprire il buco, ma questo l'ho messa diciamo solo per appunto per coprire il foro di drenaggio che era piuttosto largo se non mi esce tutto il terriccio. La terra che userò è questa, che è una terra che è molto diversa da quella che uso per i cactus, vedete che è molto ricca di torba, qui c'è dentro tanta torba e anche di humus, c'è molto humus di lombrico anche, questo non ve lo togliamo, e poi ci sono un po' di inerti vari, sono pomice, lapillo principalmente e un pochino di sabbia, quindi è un terriccio sì drenante ma molto molto più ricco rispetto a quello che uso per i cactus, quindi questo tenderà a restare umido già molto più lungo rispetto ai normali terricci che è consigliabile usare per le cactacee. Però ripeto, appunto per queste piante va bene, perché hanno bisogno di un po' più di umidità, diversamente le foglie si seccano, si afflosciano e quant'altro. Allora, terriccio è pronto, ci spostiamo qua, comincio a mettere un po' di terriccio sul fondo, diamo un po' occhio perché vediamo quanto è alto il pane di terra. Allora, per queste piante faccio una cosa abbastanza ovviamente semplice, visto che sono già in un terriccio corretto perché il produttore è un produttore specializzato in piante succulente, quindi usa già dei terricci abbastanza corretti per le piante succulente o per i cactus. Infatti vedete che c'è molta pomice, solitamente nei vivai non specializzati trovate queste piante in torba pura. Quindi qui cosa stavo dicendo? Che non andrò a togliere il terriccio vecchio, lo tengo più o meno così com'è, vuotiamo magari un pochino, adesso vediamo come esce fuori, però non rompo il pane radicale. Do solo una scrollatena e lo tengo per quello che è, perché va già bene questo terriccio, è simile al mio come potete vedere, anzi forse addirittura era anche un po' più povero il suo addirittura quasi. Adesso vado a collocarne una. Prima mi sono fatto un'idea di massima di come voglio disporre le piante, ecco la prima cosa che dovete fare, stavo già dimenticando, è questa. Considerate le piante che volete mettere, fatevi un'idea di massima di come le volete disporre nella ciotola, nel vaso che intendete usare e poi le disponete una volta tolte dal vaso, ecco io mi sono fatto un'idea di massima. Stavo dicendo queste sono le piante, adesso ne comincio a poggiare due o tre, questa non la metterò perché un po' come il cactus, questa è un'altra, è una succulenta, non è una cactacea, questa è una titanopsis calcarea e ha delle esigenze un po' diverse rispetto alle altre, quindi l'ho messa qua solo per farla vedere, ecco non la metterò in questa composizione, perché questa ha una crescita prevalentemente invernale, fiorisce e cresce molto in inverno, quindi va bagnata anche d'inverno, le altre, soprattutto i cactus ma anche queste succulente, in inverno vogliono pochissima acqua, giusto per non farle appassire, quindi queste invece magari ne vogliono un po' di più, quindi non la metterò in questa composizione che già sarà anche abbastanza pieno, quindi mettiamo queste, prendiamo questa che è una dromiscus e l'appoggiamo, vedete che se non rompete il pane di terra non ci sono grossi problemi ad appoggiare semplicemente le piante dove abbiamo pensato di collocarle, saranno vicine perché ho intenzione di metterle praticamente tutte quelle lì, ma non fa niente perché non è che voglio farle crescere e sviluppare chissà come, direi che rispetto al bordo del vaso ci siamo, anche perché tenete conto che alla fine metterò uno straterello di ghiaia, anche lì è questione di gusti diciamo, cioè si scelgono i colori, quindi comincio semplicemente ad appoggiarle, vedete qui una foglia già secca, la togliamo, ad appoggiarle e dopo andremo a riempire, adesso io faccio magari ancora questa, poi mi fermo un attimo sennò diventa un video troppo lungo e ecco se mentre invasate vedete foglie secche le togliete semplicemente come in questo caso, perché questa non beve da un pochino, quindi è abbastanza, ecco vedete ci sta, perfetto, comincia a prendere forma, adesso ripeto, adesso ci fermiamo un secondo, dispongo le altre, adesso diventa anche noioso e poi vediamo invece la parte finale, cioè riempiamo con la terra e mettiamo lo strato finale, ok eccoci qua, adesso come vedete ho sistemato, ho solo appoggiato le piante nella ciotola dopo averle tolte dai loro vasetti, quindi non c'è ancora, non sono ancora state sommersi dalla terra, lo facciamo adesso, non ho, come dicevo prima, non ho rotto il pane di terra ma l'ho tenuto più o meno intatto quasi per tutte, salvo quel po' che è venuto via, le ho appoggiate più meno nella posizione che volevo, anzi più o meno, come nella posizione che volevo io e adesso andiamo, vedete questa tende un po' a cadere qui, parto da qua proprio, andiamo a riempire semplicemente con il terriccio, evitiamo magari un po' con le mani, io parto dai bordi che sono un po' più facili, non preoccupatevi se sporcate le piante perché dopo tanto si spuote un po', si spennella, si da là, cioè quando si innafferrava via, un po' si spuote, inevitabile, andiamo a finire i bordi qua, così teniamo le piante già un po' più ferme diciamo, poi con magari un bastoncino, un pennello, in questo caso quello che avete, le andate a pressare un po' la terra in modo da farla andare un po' giù lungo i bordi e poi arriva la parte diciamo un po' più difficile se vogliamo cioè riempire, allora vedete con un pennello potete anche fare questo lavoro, cominciare a ripulire appena appena le foglie che avete magari sporcato, anche perché io adesso devo stare un po' basso perché l'intenzione mia è quella poi di mettere uno strato, come dicevo prima, superficiale di gaietto, però prima bisogna andare a raggiungere le parti più difficili che sono quelle al centro per ovviamente riempire tutto il vaso con la terra e fermare le piante bene, quindi qua, senza propri problemi di sporcarle ma andiamo a riempire con l'accento che è più difficile ovviamente facciamolo cadere poi dopo vedete dicevo qui vedete che si sporcheranno un po' le foglie centrali ma non è un problema perché dopo scuotiamo anche un po' il vaso lo faccio vedere dopo la fine ok andiamo a vedere di qua vedo qua c'è ancora un po' di vuoto perché è importante non lasciare delle zone vuote un po' per la stabilità ovviamente delle piante ma anche per evitare che si accumuli magari l'acqua in alcuni punti in altri no insomma quindi deve essere abbastanza uniforme poi è anche vero che dopo le prime annaffiature il terriccio tende a stabilizzarsi ok chiaramente però vogliamo evitare anche che dopo le prime annaffiature si creino delle pozze delle zone con meno terra e via allora una sommaria pulita col pennello e secondo me tranne qua che c'è forse ancora bisogno di un po' di terra dovremmo più o meno esserci ecco una cosa che si può fare è questa quella che faccio sempre di sfruttare un po' la forza di gravità quindi battere delicatamente in questo caso perché qui abbiamo più piante e non un solo cactus come ho di solito i bordi e proprio il vaso ok in modo che la terra va a disporsi poi allora secondo me più o meno ci siamo vedo un po' basso ancora qua quindi adesso andrò ad aggiungere un po' di terra facciamo come cucchiaio ancora prima ma lo chiediamo di meno forse in mezzo se ne è ancora questa che sta un po' storta la cerchiamo di tenere un po' su ma dopo starà più su quando metterò la galletta poi a parte che ha il portamento su più o meno è quello quindi più di tanto qua in mezzo e qua in mezzo ok vediamo ancora di ultima spennellata per togliere il grosso ma poi dopo una volta messa la galletta vedrete che dopo le prime annaffiatura o qualche nebulizzazione anche residui di terra tranne magari qualche sassolino che può sfuggire dicevo che residui di terra ultima passata per livellare la terra il più possibile io non sto a premere molto ecco le dita molti dicono io lo faccio un pochino ma non più di tanto anche perché ripeto dopo le innaffiature si stabilizza il tutto quindi c'è il gusto indispensabile poi crescendo si riempirà ancora di più ovviamente la ciotola quindi ho fatto una cosa volutamente abbastanza già concentrata perché mi piace vedere un po' tutto l'insieme poi le questioni di gusti uno può fare anche mettere più di radate appoggiare delle rocce dei sassi quello che vuole spostiamo questo e passiamo alla parte finale con gli stessi attrezzi ho preparato qui questa graniglia anche qui in questione di gusti io qui ho scelto una graniglia molto semplice proprio perché il vaso è grigio una graniglia quindi come vedete c'è un po di bianco un po di grigio qualche pezzetta arancione però la trovate ad esempio nei negozi per acquari trovate graniglie di tutti i colori allora quindi ho scelto questa addirittura per me anche fin troppo colorata purtroppo non c'era di più diciamo grigio tendente alla ghiaia da fiume ecco se non avrei messo quella però avevo questa qui adesso se non l'alternativa era metterla rosso ma non mi pareva caso almeno non mi andava quindi riempiamo bene con la ghiaia che quella è sempre utile perché prima cosa tiene a posto le piante seconda cosa quando innaffiamo non andiamo a sporcare le piante non abbiamo la terra che va ovunque e questa cosa molto importante se coltiviamo ad esempio se li teniamo in caso sul balcone perché in una sera si può anche fare sporcare quella però meglio evitare anche qui faccio prima i bordi come ho fatto con la terra ok poi lungo perché sono scarso di qua anche qui è il discorso è uguale quindi non vi preoccupate se all'inizio c'è un po di più qua un po di meno là perché poi si batte il vaso e tutto si assesta tutto si aggiusta allora andiamo a mettere la parte centrale poi crescendo le piante ovviamente vedrete che diventano anche molto più belle nel senso la composizione diventa più bella perché le piante crescendo escono dalla ghiaia e vanno occupare più spazio ecco quindi se anche adesso magari vedete molta ghiaia intorno ci vuole un po di tempo con la crescita diventa tutto più stabile e più bello soprattutto queste qua che magari ramificano un po così in maniera un po disrovinata poi si tendono a distribuire da sole ok diciamo che più o meno ci siamo poi come ultimo lavoro questo forse un po grosse ci vorrebbe un pannello più piccolo che adesso qui non ho potete fare un lavoro un po più di fino se volete o anche addirittura con delle pinzette stanno tenti a non rovinare le piante togliete quello che è in eccesso di ghiaietta ok che adesso l'ho fatto sommariamente per brevità e dopo magari faccio un lavoro migliore ultimo passaggio una piccola pulizia qui siamo comunque in febbraio però passata di una nebulizzata visto che non ho rotto molto le radici ci sta non succede assolutamente niente giusto per farle vedere un po magari più pulite bagnate dopo quando si asciuga sono ancora più belle ok questo è quanto una cosa un po diciamo anomala per il mio per quanto riguarda il mio tipo di coltivazione ma che so che a molti può interessare è comunque bella da avere ripeto in casa o sul balcone insomma sono carine anche queste composizioni per uno che apprezza io non è il mio genere di coltivazione ripeto ma non mi dispiace ogni tanto avere qualcosina anche che strizza l'occhio all'estetica diciamo ok questo è tutto vi metto il link qua sotto come al solito anche ok allora diciamo che così è terminata la composizione vi metto i miei link qui sotto come al solito al sito anche perché nel sito tratta principalmente di cactus però c'è un'intera sezione di succulente non cactacee quindi vi metterò il link qui sotto per chi è interessato magari più a queste piante che non ai cactus e vi invito a dare un'occhiata al sito e a mettere un mi piace al canale se vi piacciono questi questi video grazie un saluto